Non saranno precipitazioni corpose né tanto meno risolutive ai fini di un'area più salubre, ma tanto basterà a bagnare la notte che saluta il 2023 in attesa di un nuovo anno. Secondo il bollettino meteo-vento emesso da Arpav, il persistente flusso occidentale in quota convoglia sulla nostra regione di eboli e saltature alternate a fasi leggermente anticicloniche. La massima probabilità di precipitazioni sarà appunto nelle ore tra domenica e lunedì. La situazione più stabile è tra mercoledì e giovedì. Per le temperature a bassa quota la tendenza invece ad una graduale contenuta diminuzione. Nello specifico tra il pomeriggio e la sera di oggi, domenica 31 di dicembre, assisteremo a precipitazioni da sparse relativamente diffuse, soprattutto sulle zone interne. limite delle indicati intorno ai 1.300 m sulle Dolomiti e 1.300-1.600 m sulle Tre Alpi, rinforzi di livecio in quota nonché localmente sulla costa meridionale di sera. Domani invece tempo più asciutto con schierite alternate a nubi medio-alte, meno estese in serate quando però in penure nelle valli si ripresenteranno nubi medio-basse delle parziali e riduzioni della visibilità, temperature e indignazioni.